Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 9 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo Cancro. Segno fortunato. Una giornata perfetta, come canta Capossela. Così canta Capossela in quel vecchio pezzo intitolato una giornata perfetta. E covi servito su un vassoio lunare il vostro giorno perfetto, con la bianca signora in segno d'acqua, intrigono al vostro e in simultanea al fantasioso Nettuno e al saggio Saturno, ma in buona amicizia anche con il sole garante di belle escursioni, mare ancora godibile e spostamenti senza rischi. Un filo più problematica la vacanza studio all'estero o l'adesione al progetto Erasmus, vi mancano i vostri cari e le consuetudini taliche e con la lingua fate un po' di confusione. Sospiro di sollievo la sera, sciattando con connazionali, almeno non dovrete spremervi le meningi alla ricerca del vocabolo giusto, urge un corso di conversazione. Nella vostra vita avete una persona che è segretamente innamorato di voi ma non ha forza e coraggio per farsi avanti e dichiararlo apertamente. È possibile che proprio il consultante è segretamente innamorato di qualcuno ma non ha il coraggio di pronunciarsi e farsi avanti. I singli incontreranno persone molto idealiste ed altruiste. Amore in positivo, i nati di martedì e giovedì potrebbero oggi mettere a segno qualche colpo importante e maturare piccoli successi. Anche per l'amicizia oggi potrebbe essere un giorno discretamente favorevole. Lieto evento in famiglia, tra parenti o amici. Preoccupatevi di fare bella figura in un regalo che farete. Cercate di distrarvi magari andando in giro per la città o a fare shopping. La forza che scaturisce dal di dentro è necessaria, oggi, per affrontare delle questioni importanti che vi riguardano da vicino, non rinviate la soluzione di questi problemi. Potreste poi pentirvene. Vi sentite soli e insicuri. Non cercate ciò che può arrivare proprio quando non è atteso e desiderato. Sarete presi di mira da persone che nutrono un certo risentimento nei vostri confronti. Fatevi scivolare tutto addosso e mostratevi indifferenti. In questo modo avrete la vostra piccola vendetta. Evita di fare promesse che non puoi mantenere. Alti e bassi nel lavoro. Una proposta. Prendi tempo per riflettere. Chiedi il consiglio di un amico. Sarai molto assorbito nel lavoro e ti dedicherai poco a tutto il resto. Allarga gli orizzonti delle tue conoscenze. Giornata che sembra non dover mai terminare. Meno male che la sera non mancheranno le occasioni per un buon e giusto relax. Distraitevi e riposate. Leggete oggi qualche buon libro o guardate qualche programma distensivo. Avete bisogno di relax e non è il caso di impegnarsi in altro se non il riposo. Giornata lunedì di relax in cui creerete un clima di armonia aprendo la vostra casa e ricevendo parenti e amici. Se siete nati della prima decade del segno, Marte contrario, consiglia di non prendere posizioni troppo nette e non schierarvi in modo rigido nelle diverse opinioni che potrebbero sorgere in famiglia o nella cerchia di amici di sempre. Il duo Venere, Plutone resta ostile, conviene che non vi lanciate in iniziative troppo spericolate. Uno dei vostri talenti più belli, la danza, con Nettuno benefico dei pesci, specie se appartenete alla terza decade, vi rende le più grandi soddisfazioni. Anche Urano resta sempre ben disposto per voi in questa giornata, prevedendo così un riposo lunedì sereno. Bellissima lunedì per voi, da spendere tassativamente al lago o al mare, specie se questo è l'ultimo fine settimana che potete trascorrere tranquilli in santa pace, quando inizieranno le scuole e con i ragazzi impegnati con lo studio godersi weekend marinari o campestri come ora non sarà più così facile. Tifano per voi la luna in scorpione, sinonimo di forti emozioni, affetti profondi, sogni veritieri, deduzioni prodigiose, così, come il suo amico Saturno acquatico in pesci, nel segno della meditazione e della sconfitta di ogni egoismo. Terzo polo dell'acqua voi, sentimentali, romantici, innamorati del partner e dei vostri ragazzi, guai se qualcuno muove critiche ai vostri affetti, altro che timido cancerino, le vostre chele diventano velenosissime. Amore ed Eros. Felicissimo batticuore, coinvolti al 100% a qualsiasi età, ragazzini alla prima cotta, giovani mamme per il loro puppo, maturi coniugi sempre innamorati. Il sentimento è un'emozione che vi trasforma, accendendovi lo sguardo e mantenendovi sempre giovani. Giornata piacevolissima anche per i cuori solitari, passeggiata con parenti o amici, lunghe telefonate o messaggi con persone conosciute durante una vacanza che hanno lasciato il segno. A quanto pare la sensazione è reciproca, visto che rimanete al telefono o a shattare per ore. La vostra attenta attitudine alla cura vi fa interessare a un problema del vostro o della vostra partner. Questo problema si minimizzerà poi anche grazie al vostro provvidenziale aiuto. Godrete di inattese emozioni, che una tranquillità ritrovata nella vostra dimensione di coppia, vi regala. Lavoro e denaro? Oggi c'è spazio per tutto, la scarpinata in montagna, la gita in barca, la festa tra amici, con pranzo rustico e ballo sull'aia, a ciascuno la formula che preferisce. Spazio anche alla musica e alla poesia, in questa giornata perfetta non dovrà mancare proprio nulla. Un plutone negativo, se siete nati nella terza decade, vi fa avvertire un tantino di stanchezza se anche oggi di lunedì lavorate. Svolgete i vostri compiti con responsabilità, ma non vedete l'ora che arrivi l'indomani per staccare. Benessere. In ottima forma, basta andare, cambiare ambiente, latitudine, cielo, per sentirvi subito un altro, ecco il vostro segreto, vivere ogni volta una sfaccettatura diversa di voi stessi, cambiando personaggio, ruolo e copione, divertentissimo. Denaro? Con Marte al vostro fianco, anche se i soldi non vi abbondano, godete della gioia per quel che possedete e siete riusciti ad ottenere con il vostro talento, con la vostra infaticabile attività e l'impegno indefesso. Per lei, un buon libro è sempre un amico insostituibile, in qualsiasi situazione e a qualsiasi latitudine. Facendo valigia non dimenticatevi almeno un paio di volumi. Per lui, impossibile non dare la buonanotte ai vostri figli, anche se siete all'altro capo del mondo. Benetetta la tecnologia che vi consente un filo diretto continuo e a costo zero. Colore delle emozioni, verde acqua. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.